e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore voi, Suoi Santi, perché a chi lo teme non manca nulla. I leoncelli sono poveri e hanno fame, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Allontanatevi dal male e fate il bene, cerca la pace e rincorrila. Gli occhi del Signore sono sugli integri e i Suoi orecchi sono attenti alle loro grida. Quando gli irreprensibili gridano, il Signore li ascolta e li salva da tutte le loro tribolazioni. Il Signore salva l'anima dei Suoi servi e nessuno di coloro che confidano in Lui viene condannato. Confidate nel Signore e fate il bene, vivi in campagna e cammina fedelmente. FEDELMENTE. Possa il Signore essere la tua delizia e ti darà tutto ciò che il tuo cuore desidera. Affidati al tuo destino nelle mani del Signore, confida in Lui e Lui lavorerà. Ero giovane e sono invecchiato, ma non ho visto il giusto abbandonato, nella sua discendenza mendicare il pane. Allontanati dal male, fai il bene e durerai per sempre. 28. Poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i Suoi fedeli. Sono sempre sotto la sua protezione. La fuga dei giusti viene dal Signore. È il loro protettore nei momenti difficili. Il Signore li aiuta e li libera, li libera dai malvagi e li salva. Salva, perché confidano in Lui. Servirai il Signore tuo Dio, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua e allontanerà la malattia da te. Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Il pane che discende dal cielo è tale che chi ne mangia non muore. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane vivrà in eterno, se il pane che darò è il mio corpo, che darò per la vita del mondo. Così è il pane disceso dal cielo, non come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono, chiunque mangia questo pane vivrà in eterno. Tu però, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoge e nelle strade, per essere glorificati dagli uomini. Vi dico la verità, hanno ricevuto la loro ricompensa. Ma tu, quando fai l'elemosina, non far sapere alla tua sinistra ciò che fa la tua destra, affinché la tua elemosina possa essere fatta in segreto, e il padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Lasciamo che coloro che incoraggiano gli altri mantengano il coraggio. Chi dona dona generosamente. Chi governa dovrebbe governare con zelo. Chi fa l'elemosina lo faccia con gioia.